I mari europei non sono gli stessi e soprattutto i criteri sulla pesca nei mari del vecchio continente non possono essere uguali fra loro e questo è uno dei temi centrali affrontati a Catania dalla Commissione Europea per l'Ambiente e la Pesca, che ha sottolineato la gravità della situazione in cui versa il Mediterraneo in cui gli stock, cioè il tipo di pescato, sono sempre più ridotti né si può immaginare un intervento normativo, comune, senza tener conto delle specificità del mare Nostrum. Che c'è un problema, la seconda cosa è che dobbiamo fare qualche cosa su questo problema e il terzo dobbiamo discutere cosa possiamo fare e anche che dobbiamo fare qualche cosa al più presto possibile. Il commissario Vella ha incontrato così anche una delegazione di pescatori siciliani e a chi gli domanda della mancanza di regole da parte dei maritmi dei paesi dell'enotrafica risponde. Io credo che non possiamo continuare ad usare questa scusa, sai perché? Perché anche quei stock dove ci sono soltanto pescatori europei abbiamo lo stesso problema.